Ecco i risultati della quinta giornata di Serie A. Salernitana-Frosinone finisce 1-1. Vantaggio del Frosinone con Romagnoli e pareggio della Salernitana con Cabral. Lecce-Geno a 1-0. Decide un gol di Udina al minuto 83. Milan-Verona finisce 1-0 con un gol del solito Raffaeleao. Cade la Juventus in casa del Sassuolo. Sassuolo-Juve finisce 4-2. Parità invece tra Lazio e Monza. 1-1 all'Olimpico. L'Inter espugna lo stadio di Empoli vincendo in trasferta. Empoli-Inter 0-1. Decide il gol di Di Marco. La Fiorentina va a vincere ad Udine. Udinese-Fiorentina 0-2 con un gol per tempo. Di Martinez quarta e Bonaventura sono le marcature. Atalanta-Cagliari 2-0. Lukman porta in vantaggio i bergamaschi. Pascialic raddoppia al minuto 76. Parità senza reti tra Bologna e Napoli. Bologna-Napoli termina 0-0. Termina la quinta giornata di Serie A il posticipo serale tra Torino e Roma. 1-1 con gol di Lukaku e Zapata.